Mette in evidenza tutti quegli aspetti che non si conoscono nel mondo Roma dal modo di vista storico, culturale, linguistico, antropologico quindi far conoscere questo enorme patrimonio artistico e culturale che è patrimonio dell'umanità Molti non conoscono i Rom realmente per cui si è imposto un'immagine stereotipata e soprattutto si è imposto uno sguardo strabico sul mondo Roma che porta alla mistificazione certamente ci sono persone che si comportano male ma non tutti i Rom si comportano male e l'integrazione è molto più avanzata di quello che si crede A che punto è lo stato dell'arte culturale nei confronti della cultura Rom, Santi? Ma si conosce poco la cultura Romani ecco io cerco di farla conoscere attraverso la musica attraverso le mie opere letterarie per far vivere gli altri questa cultura che appartiene a tutto il mondo io credo che attraverso un'attività interculturale noi possiamo anche evitare i conflitti perché la conoscenza dovrebbe portare al rispetto e alla mutua comprensione ecco quindi è importante far conoscere queste cose per avere un maggior rispetto i Rom oggi da questo punto di vista sono assolutamente sconosciuti e anche se non è un'attività interculturale e anche se non è un'attività interculturale